Ciao da Avsim! Buona Pasqua! Lazio Juventus 1 a 0 come doveva essere perché la prestazione ha parlato, il campo ha parlato e soprattutto ha parlato il lavoro, il lavoro dei giorni precedenti e semplificando si potrebbe dire che Tudor in due settimane è riuscito a far fare alla sua squadra, alla sua nuovissima Lazio, più calcio e miglior calcio che Allegri in quasi tre anni. Perché è questo ed è anche lo smacco che sia proprio Tudor, che sia proprio Igor Tudor a dare una lezione di calcio, seppur non una lezione eccelsa, seppur non una lezione di livello top ad Allegri. Proprio Tudor, Tudor che è stato vice del vice alla Juventus, proprio Tudor che è stato accostato alla Juventus e forse sarebbe stato l'allenatore della Juventus a partire da questa stagione se le cose fossero andate in maniera diversa. Come andranno questa volta? Mi fa sorridere, fatemi fare questa piccola parentesi, poi appunto parliamo un po' della partita e delle dichiarazioni che nelle ore serali di ieri, magari anche un po' notte e anche oggi il tantam sia. Ma l'hanno cacciato? L'hanno cacciato? Lo stanno cacciando? Lo cacceranno? Quando arriva l'esonero vogliamo il comunicato. Mi fa sorridere perché quando sono state fatte delle prestazioni praticamente dello stesso livello da parte della Juventus in questa stagione, ma il risultato era l'opposto, il risultato era l'inverso, magari ero io in una mia versione precedente, con un approccio diverso, a pretendere l'esonero, ad aspettarmelo e anche un po' a forzare chi mi ascoltava, chi mi seguiva a fare la stessa cosa. Ma non trovavo, non trovavo sostegno in questo, non trovavo, non trovavo appoggio, non trovavo convinzione. Invece adesso che io sono qui, sereno, tranquillo, ad aspettare il fluire delle cose, perché so già che cosa arriverà, so già che cosa arriverà, perché è già accaduto, sono gli altri a stare lì con la frenesia di aspettarsi l'esonero. Diciamolo brevemente, l'esonero non è arrivato ieri, non arriverà oggi, non ce l'aspettiamo assolutamente neanche domani, ma perché si gioca martedì, si gioca martedì quindi oggi c'è allenamento e già il fatto che è Pasqua, si devono allenare di ritorno da Roma, anche se non sono tornati sicuramente molto tardi perché la partita era alle 18, poi domani comunque devono fare rifinitura ma è comunque Pasquette, ricordiamoci le storiche grigliate, storiche più o meno è successo, delle grigliate alla continassa con Allegri dove si dice no ma il gruppo è unito, i giocatori sono tutti compatti, tutti quanti con Allegri, poi appunto c'è di nuovo la partita per quanto in casa, cosa vai a prendere l'allenatore? Anche se l'allenatore c'è in casa, perché Magnanelli magari non tanto, ma Montero, e ne abbiamo parlato, Montero viene in maniera un po' sottile, un po' tra le righe proposto, sponsorizzato letteralmente dalla Juventus, come Montero che fa l'allenatore dell'ander 19, magari lo stanno tenendo pronto, lo stanno tenendo caldo, quindi attenzione magari a martedì sera, martedì notte e soprattutto mercoledì mattina, anche se io penso è più una situazione da monitorare per lunedì 8 aprile, lunedì 8 aprile dopo la partita sempre in casa con la Fiorentina in campionato domenica 7 aprile alle 20.45 se non sbaglio, ma parlando appunto di Lazio-Juventus di questo 30 marzo alle 18, partendo dalla Lazio, vi mostro anche un po' di statistica, un po' di dati, sicuramente la Lazio ha cambiato modo di giocare e comunque ha continuato a giocare a calcio, perché la Lazio giocava a calcio prima, gioca a calcio adesso in maniera diversa, ovviamente non è una rivoluzione, non è ancora una rivoluzione, sicuramente si sono visti dei movimenti e delle funzioni diverse in alcuni giocatori, penso a Felipe Anderson, penso a Kamada, sicuramente Marusic e ovviamente il modulo, ovviamente il modulo è diverso, diciamo che era una sorta di 4-4-2, una sorta di 4-4-2 che però era a tratti anche vista la posizione media diciamo di Zaccagni davanti, era comunque una specie di 3, era comunque molto sfalsato, in particolare c'era Pedro che prevalentemente ha giocato a supporto alle spalle, con Zaccagni comunque laterale nella sua posizione, era Felipe Anderson che stava un po' più dentro nel mezzo spazio e leggermente ribassato, quindi comunque un modulo asimmetrico dove in effetti abbiamo due esterni d'attacco che formalmente sarebbero stati Pedro e Felipe Anderson stretti, quindi in realtà non lo so, è da capire, è da capire poi ci sono stati degli sviluppi interessanti ma è chiaro che Tudor non ha cambiato, non ha ancora rivoluzionato, ha cambiato delle cose, si vede che i giocatori, soprattutto quello che mi è piaciuto della Lazio sono state l'applicazione e la voglia, l'applicazione e la voglia che si sono tradotte come vediamo tra un attimo in dati di campo veramente interessanti in una prestazione molto positiva, molto positiva per quello che c'è stato in campo con una buona qualità di palleggio, una buona qualità di interdizione, una buona qualità quindi nel recupero del pallone, nella gestione del pallone con un dato in particolare che dopo vediamo, che riguarda i lanci lunghi, però va detto anche una Lazio non ottimale negli ultimi metri, cioè è arrivato questo gol, è arrivato con un cross, ce n'è stato pure qualcuno prima, anche la Juventus ha fatto qualche cross, ha avuto qualche occasione magari dove si sono saltati addosso, vedi Bremer oppure quella più importante di Cambiaso sul secondo palo, se vogliamo escludere il tiro di Chiesa che è stata poi l'unica azione l'unica azione degna di questo nome, di tutta la partita direi che è stato il primo tiro in porta della Juventus verso la fine del primo tempo con Chiesa perché lì si è visto uno sviluppo di gioco con Rabbio che è andato lungo e poi ha dato il pallone dietro per il resto poi ci arriviamo alla prestazione della Juventus, mi interessa parlare di più della Lazio perché qui cerco di parlare di calcio giocato, con le mie felpe Tocco Felpato tra cui questa gioco creato che trovate su toccofelpato.shop, il mio store con tutte le felpe dedicate ai tifosi delle singole squadre e ai tifosi appassionati di calcio in generale in tanti colori e c'è anche la felpa della Lazio e c'è la felpa per i tifosi della Juventus dato un'occhiata e quindi parlando appunto di calcio giocato mi interessa più quello che si è fatto vedere nella Lazio con magari Castellanos non brillante, non brillante, Kamada che ha messo dentro veramente tante cose e lo ha elogiato Tudor dopo la partita, interessante in questo senso l'ingresso di Immobile soprattutto per una fase di aggressione davanti un po' più efficace, anche Isaksen si è mosso con una certa intensità, stava abbastanza alto e poi nel finale Vesino, Guendosi e Luisa Alberto comunque ci hanno messo una buona applicazione, Guendosi come sempre la quantità che ci mette nel campo di farsi vedere, di stare sempre addosso e Luisa Alberto sicuramente anche una buona qualità. Che dire anche delle parole di Tudor, Tudor ha detto io amo tutti i miei giocatori, io voglio bene a tutti i miei giocatori, l'unica tracotanza, l'unica arroganza che possiamo magari vedere in Tudor è stata di dire ci volevo io per far capire a Marusic che è un ala e non un terzino, ecco qui abbiamo terzini che diventano ali e ali ma attaccanti che diventano terzini e difensori perché appunto poi dobbiamo parlare della Juventus e poi Tudor ha detto anche un'altra cosa da scolpire veramente nella pietra, non esiste fortuna o sfortuna esiste il lavoro, non esiste fortuna o sfortuna esiste il lavoro e ha detto adesso per la partita di Coppa Italia dobbiamo allenarci al massimo per preparare al meglio e fare una grande partita e quindi abbiamo anche un altro vantaggio, abbiamo già elencato i vantaggi della Lazio, il fatto di lavorare intanto di avere un allenatore, un vantaggio della Lazio, la Lazio ha un allenatore, ha un allenatore che allena, sono due cose perché in realtà se sei un allenatore alleni però Tudor allena anche proprio come intensità, come quantità per 10-15 giorni con pochi nazionali, solo sei che sono meno della metà di quelli invece che la rosa scarsa della Juventus ha prestato alle varie nazionali per preparare due partite contro lo stesso avversario assolutamente prevedibile, adesso lo hanno studiato anche in campo, hanno fatto vedere delle cose, hanno vinto, adesso si presenteranno con un'altra squadra perché adesso Tudor cambierà delle cose, quindi veramente Allegri non lo acchiappa proprio, cioè non lo riesce proprio a vedere, figuriamoci a prendere, per una partita quindi dove potranno mettere cose diverse, dove giocheranno in trasferta ma avranno anche la gratificazione, la forza e lo slancio di aver comunque già vinto, mentre la Juventus si troverà veramente allo sbando perché squadra completamente sfilacciata, spogliatoio completamente spaccato, le parole di Scesni, le parole di Scesni da Juventino vero mi viene da dire, sono emblematiche, Scesni ha parlato di situazioni imbarazzanti, situazioni inaccettabili, ha parlato fondamentalmente di fare molto di più, lo scudetto era un sogno, non un obiettivo ma se sei alla Juventus devi giocare fondamentalmente per i migliori risultati, per i migliori obiettivi, per il massimo, tempo fa non avrei mai accettato di dover combattere per il piazzamento Champions e la Coppa Italia, ma adesso comunque siamo qui e quindi puntiamo al massimo del minimo, al massimo di quello che possiamo fare, quindi situazione veramente emblematica con ovviamente i nostri cari amici allegriani, faccio questa piccola parentesi poi torno sul campo, i nostri cari amici allegriani che sono disperatissimi, qualcuno è sceso dal carro, qualcuno impensabile è sceso dal carro e ha cominciato a parlare di esonero dell'allenatore, ha cominciato a parlare di cambio di guida tecnica perché non gli piace dire esonero di Allegri, cambio di guida tecnica, di cambiare allenatore perché non se ne può più e quindi dicevo in una situazione come questa dove però trovi qualche giornalista, oserei dire qualche giornalistuncolo che se ne viene anche questa volta con la rosa scarsa, con i cambi che non sono all'altezza perché Allegri non aveva giocatori validi in panchina, non aveva giocatori validi in panchina oppure l'errore di Sekulov, ecco poi parliamo dell'errore di Sekulov, vi metto anche il frame del momento in cui arriva il cross di Guendouzi, quindi vai a vedere se veramente era errore di Sekulov o cosa e quindi si parla di errore di Sekulov, si parla dei cambi, si parla comunque di avere addirittura rischiato di pareggiare, sarebbe stato un buon punto, sarebbe stato un buon punto, pensate, una situazione di classifica aberrante, il Milan tra l'altro ha vinto, quindi il Milan va a più 6, il Bologna domani se vince e non mi pare una partita difficile, ma poi ovviamente tutto può essere, va a meno 2, quindi a quel punto il secondo posto è distante il triplo dal quarto posto e appunto poi le dichiarazioni di Allegri che sono veramente inqualificabili, dice abbiamo comunque un margine di punti sul quinto posto, la situazione è negativa però avevamo fatto già tanti punti, non è che siamo diventati brocchi adesso, i tifosi ci devono sostenere, poi vorrei capire perché la squadra deve andare a tu per tu con i tifosi che sono i gruppi organizzati, no? Cioè i gruppi organizzati che esaltano l'allenatore, che tifano esclusivamente per Allegri, i giocatori devono andare in faccia loro a giustificarsi di cosa, di cosa, ma dovrebbero essere i tifosi che si presentano o non si presentano in trasferta allo stadio a giustificare la loro presenza per il modo in cui sono presenti, cioè elogiando l'allenatore, stando dalla parte dell'allenatore e invece prendendo, e poi appunto i giocatori sono andati davanti ai tifosi, l'allenatore non è andato davanti ai tifosi, anzi stava a ridacchiare in conferenza a Dazon in collegamento televisivo perché poi ovviamente a Dazon lo elogiano, ecco appunto in questa situazione di disperazione però tornando al campo la Juventus che cosa può fare? Non ha fatto vedere assolutamente nulla, è stata una prestazione ridicola, è stata una prestazione imbarazzante, una prestazione inqualificabile, ma veramente faccio fatica a dire che cosa ha fatto la Juventus, perché allora a parte il fatto che questa era proprio una formazione da esonero immediato, io non ho voluto parlarne ieri perché ho voluto parlare di altro, però bisognava dire che questa era una formazione, dagli spoiler che c'erano, da esonero immediato, cioè De Scilio, che poi gli è andata malissimo, è stato imbarazzante, l'ha dovuto cambiare all'intervallo, fare due cambi all'intervallo, quelle poi sono le mosse di Allegri, dice non sta andando bene, adesso dobbiamo fare due cambi perché questi mi stanno deludendo, questi non stanno giocando bene perché adesso faccio due cambi ecco e non funziona manco quello, ma De Scilio che parte titolare dopo dieci mesi di assenza totale dai campi, però Jalò non può giocare, in una situazione simile Jalò non può giocare, mettendo la difesa a quattro per la prima volta, anche se poi in conferenza stampa quando gli si chiedeva della difesa a tre, lui diceva che giocavano sempre a quattro, Ken titolare anche lui assente da tempo, in una stagione in cui non gli ha funzionato praticamente nulla, con il 4-3-3 nominale, nominale, con Cambiaso fuori posizione, Chiese e Cambiaso invertiti ovviamente, e Cambiaso in un ruolo che non è suo, poi mette tra l'altro Toglio De Scilio, mette Ealing, ma non è che smonta questa specie di 4-3-3, cioè comunque Ealing ha dovuto fare una specie di terzino per quelle che erano le proiezioni, perché Danilo stava parecchio alto da quell'altra parte, quindi non è andato a fare veramente il 3-5-2 sostanzialmente, ma poi non è mai stato 4-3-3 perché in realtà Chiese e Cambiaso erano bassissimi, erano praticamente centrocampisti, con Locatelli centra, era un 4-1-4-1, era un 4-1-4-1, e allora poi parliamo allora del, allora intanto faccio vedere il frame, ecco vediamo il frame del momento in cui c'è il cross, parte il cross e arriva il gol decisivo di Marusic al 93esimo, ditemi un po' se è errore di Sekulov, qui ci sono 9 giocatori della Juventus in area di rigore, 9 giocatori della Juventus in area di rigore e solo Ildiz fuori che però sta comunque nel terzo difensivo, questa è la situazione, quindi errore di Sekulov, va bene ce la suono prendere con Sekulov, ma perché Sekulov che è un attaccante stava lì, poi è entrato per il cambio che ha fatto Allegri, che veramente non aveva senso perché toglie Ken e mette Sekulov al 79esimo, cioè toglie l'unico attaccante per mettere uno che non è attaccante perché Sekulov è un giocatore di supporto all'attacco, non è una punta, è un esterno fondamentalmente, esterno 3 quarti, non è una punta, quindi cosa doveva fare? Con Ildiz doveva andare Ildiz punta? Diciamo che sì, ma anche lì Ildiz collassato da una parte a fare duelli, a proteggere il pallone, Ildiz nella metà campo, Chiesa, quante volte ha toccato il pallone Chiesa? Soprattutto nel primo tempo dove doveva correre in avanti la strategia qual era? Corsa in avanti di Chiesa, giropalla arretrato con Rabiolo Catelli, palloni buttati in avanti a Ken sistematicamente in inferiorità numerica, Cambiaso che ci mette qualcosa ogni tanto, Miretti che ha partecipato più che altro ha rincorso il pallone, ha rincorso il pallone agli avversari per tutta quanta la partita, Danilo è stato l'unico che ha avuto un ruolo un po' più evoluto perché da terzino braccetto si stringeva, andava un po' più quasi da mediano di supporto nella costruzione, ma di cosa stiamo parlando? Poi entra McKenn, il solito caos, potremmo quasi chiamarlo McKaos più che McKenn, insomma che si butta un po' lì ma senza costrutto UEA che poverino entra e cosa deve fare? Retropassaggi, non ci sono sbocchi, nel primo tempo a certo punto anche Rabiolo chiedeva ma dove siete? Perché la squadra era spaccata poi ovviamente il principio di impenetrabilità dei corpi dietro, quindi tutti quanti ammassati sviluppi praticamente assenti, costruzione del gioco praticamente assente, non funziona praticamente nulla, cioè ai singoli come al collettivo, se c'è un collettivo, se c'è una squadra, non funziona letteralmente nulla, è stata una prestazione veramente orribile come è stato riconosciuto anche da chi non vorrebbe neanche dirlo, ma è portato a farlo perché come fai a dire che non sia stata una prestazione orribile? Cosa si può mai salvare di una prestazione del genere? Quindi direi che infatti lo vediamo anche dai dati, questo è infatti il report di X-Value Soccerment ed è veramente molto interessante, vedete la pass map della Lazio fino al minuto 56, cioè fino al primo cambio, 56-57 quando poi i primi cambi sono usciti Pedro e Castellanos e sono entrati Immobile e Isaacs e poi la pass map con l'X-Threat Hitmap della Juventus fino al minuto 45, cioè fino anche qui ai primi due cambi, ecco già questa è emblematica, è solo il primo tempo della Juve, è solo quasi il primo tempo della Lazio però ci dice tantissimo, guardate l'ampiezza dei cerchi ci dice l'ampiezza del coinvolgimento nel gioco dei singoli giocatori e quindi vedi ovviamente Cataldi, Ghila in che posizione è, Mario Ghila in che posizione è, cioè da centrocampista, Marusic quindi fondamentalmente non è stata, ripeto, una vera e propria difesa a 4, la centralità di Camada, la funzionalità di Pedro e Zaccagni, sicuramente Castellanos cercato e trovato poco, poi la X-Threat Hitmap che vedete ovviamente per la Lazio è più azzurra su sfondo scuro, per la Juventus è più verde, è praticamente la capacità di aumentare il potenziale di goal, quindi il potenziale offensivo con i passaggi e ovviamente l'XT della Lazio Hitmap è sviluppata tutta nella metà campo avversaria, quella della Juventus, oltre che a destra non c'è praticamente nulla, è parecchio anche, diciamo significativamente anche nella propria metà campo, ma poi il baricentro del primo tempo della Juve 44 metri, quello da Lazio 57, guardate quanti passaggi tra Cesni e Rugani e quanti meno passaggi per esempio tra De Sciglio e Locatelli, Rugani e Locatelli, Cesni e Locatelli, quanti pochi passaggi a Chiesa, ecco appunto poi De Sciglio che dovrebbe essere il terzino, effettivamente ad altezza terzino con Chiesa che è il giocatore più avanzato, cioè veramente una pass map che non ha senso, per quanto riguarda la mappa dei tiri, vediamo che comunque la Lazio ha tirato tanto da fuori area, soprattutto nella parte centrale della partita, però vediamo che l'XG totale 1,18 a 0,86, tra l'altro 16 tiri a 9, poi andiamo a vedere, è interessante, XGOT che significa l'XG dei tiri nello specchio della porta, vediamo 0,9 a 0,2, in questo elenco di dati potete vedere la barra diciamo che si riempie rappresenta la media, rappresenta il totale praticamente della serie A e quindi la barra che si riempie va a rappresentare il rank, cioè il percentile della squadra, quindi della Lazio e della Juventus nella media della serie A, mentre la linea tratteggiata verticale per ciascun dato rappresenta il livello medio di quella squadra, quindi vediamo che la Lazio ha fatto quasi tutto sopra media, infatti dicevo un dato interessante su passaggi lunghi, solo una cosa, a parte XG on target che comunque 0,9 non è lontano dalla media della Lazio pre-Tudor, solo per quanto riguarda la percentuale di passaggi lunghi sul totale di passaggi, la Lazio è andata sotto media, sotto media oltre che parecchio al di sotto della media della serie A, per il resto, addirittura per quanto riguarda il field tilt, cioè la percentuale di possesso palla nel terzo offensivo, è andata praticamente quasi al massimo della serie A e parecchio sopra media, così come per quanto riguarda tutto il resto, quindi l'intensità della riaggressione, l'efficacia della riaggressione, la frequenza di interventi difensivi, il PPDA, i tocchi nell'area avversaria che sono 24 a 15, anche qui sopra media, la precisione dei passaggi, la Lazio è andata parecchio sopra media e molto vicina al massimo della serie A con 88,7, tutti i dati fenomenali, veramente molto positivi. La Juventus invece è totalmente in aridita desertificata, totalmente sotto media propria e sotto il livello accettabile della serie A, tranne passaggi lunghi. La serie è stata una partita di passaggi buttati in avanti. Poi andando a vedere anche altri dati, ecco, expected threat timeline, quindi vediamo che la Lazio ha avuto questo grosso esplo alla fine, per quanto riguarda gli XG pure, però alla fine erano più o meno sulla pari, ma perché c'è stato, credo, questo balzo in alto verde della Juventus, credo sia stato il colpo di testa di Cambiaso, nulla di che, e poi appunto vediamo che proprio si può fare anche un raffronto tra i vari giocatori. Ecco, molto simili per quanto riguarda non penalty XG, invece è decisamente meglio la Lazio per quanto riguarda expected assist in azione manovrata e quindi ovviamente Guendouzi al primo posto per la Juventus, cioè i Ling Junior. XOVA, cioè gli XG netti, vedono il Diz al primo posto, però poi vediamo che la Lazio ha dati più corposi, così come per quanto riguarda expected threat, quindi il miglioramento del potenziale da goal dai passaggi e anche dalla conduzione. Sono tutti dati in cui la Lazio è decisamente meglio della Juventus. Questa è la situazione anche a livello statistico. Che cos'altro aggiungere? È andata come doveva andare, cioè è stata la vittoria della squadra che ha giocato a calcio, la vittoria della squadra che ha giocato meglio, che ha giocato, ma perlomeno bene, perché la Juventus non ha proprio giocato in maniera dignitosa da poter dire che ha giocato bene. Non c'è stato veramente nulla, soltanto tanto caos, anche, avete visto la precisione dei passaggi, anche nel difendere, cioè anche nella fase difensiva. Tante imprecisioni, tante tanta confusione, tanti disallineamenti, tanti posizionamenti incomprensibili, sviluppi totalmente caotici, giocatori svagati, quindi fondamentalmente siamo in una situazione che volevamo creare, che abbiamo voluto, in cui Allegri ha perso completamente la squadra, non riesce più ad incidere in nessun modo, è palese ed evidente a tutti che questa Juventus può solo andarsi a schiantare. Lui parla di margine di punti sul quinto posto ed è l'allenatore della Juventus ed è già abbastanza ridicolo così e quindi stiamo soltanto aspettando che accada quello che accadrà perché è già accaduto, perché l'abbiamo voluto ed è la liberazione della Juventus. Che sia a Pasqua la risurrezione in questo senso o che sia successivamente sarà comunque un bel risveglio di primavera. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore!